Dalle frasi più famose del grande Pietro Mennea c'è quella della fatica. La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. Oggi Andrea Uberti ci parlerà di un aspetto molto importante della fatica che non va trascurato nei propri allenamenti. Lascio il posto da Andrea, vieni. E buona visione. Ciao a tutti, è vero la fatica non è mai sprecata, ma noi allenatori con la fatica dei nostri atleti dobbiamo stare molto attenti e cercare di farne fare il meno possibile, e cioè tanta. Amici atleti, amici allenatori, tutti quelli che si occupano di allenamento sportivo sanno che la fatica può avere implicazioni e connotazioni molto diverse. Chiunque si sia allenato e abbia allenato sa che la fatica in palestra non è quella che si fa su una pista d'atletica, sa che la fatica in palestra non è quella delle ripetute corte e sa che non è la fatica magari dei lanciatori o di chi vuole fare un gesto tecnico in maniera molto precisa dove c'è una fatica molto più mentale, molto più di concentrazione. Detto e chiarito questo aspetto all'allenatore spetta comunque il compito di proporre degli esercitazioni e dei lavori nel microciclo settimanale che abbiano degli stimoli di fatica differente e che siano utili per far migliorare la prestazione dell'atleta nel medio e nel lungo periodo. Allora è necessario definire determinati aspetti della fatica. Detto questo si può distinguere tra tutti quelli che sono gli aspetti legati allo sforzo, alla fatica psicologica, agli aspetti volitivi dell'atleta e quelli fisiologici a dei concetti invece che sono oggettivi. In questo senso se vogliamo trovare un aspetto oggettivo che determina la nostra fatica la fatica può essere descritta come l'impossibilità per un certo periodo di ripetere lo sforzo a certa intensità. Mi spiego, se io oggi faccio una seduta tecnica molto impegnativa avrò una fatica ovviamente del mio atleta che non sarà più in grado di ripetere quelle esercitazioni allo stesso livello. Ovviamente questa fatica sarà molto diversa dalla stessa incapacità dell'atleta di compiere allo stesso livello delle ripetute sui millimetri. Gli atleti sono stanchi rispetto al compito che propongo nel senso che non sono più in grado di rifarle allo stesso livello ma dal punto di vista diciamo dei sistemi energetici e di tutti quelli che sono gli aspetti che riguardano lo sforzo e l'impegno le situazioni sono completamente diverse. Riguardo a questo aspetto e quindi fatica sistemica e fatica specifica volevo introdurre un concetto che secondo me è importante che riguarda la fatica e i sistemi energetici. Ecco, accanto a una fatica sistemica che riguarda l'organismo e l'atleta in tutto il suo complesso esiste anche una fatica specifica. Cosa significa? Vuol dire che tendenzialmente quando io col mio allenamento mi rivolgo a un particolare sistema energetico avrò stancato principalmente quel sistema energetico e avrò invece lasciato più liberi gli altri sistemi energetici. Cosa significa? Significa che il nostro atleta se avrà svolto un lavoro magari sulle ripetute dei millimetri un lavoro molto aerobico in quella giornata la giornata successiva non sarà affaticato rispetto a quella che è una seduta di velocità e al contrario se avrò fatto una seduta di velocità molto intensa in una giornata sarò molto fresco diciamo per quello che riguarda l'aspetto aerobico. L'alternanza dei sistemi energetici tra lavoro aerobico lavoro lattacido e lavoro di velocità lavoro a richiesta neurale è una strategia molto utile che ci può aiutare nell'alternanza dei carichi con i nostri atleti perché dobbiamo ricordarci che c'è una fatica sistemica e una specifica. Volevo farti una domanda ma quindi se io un giorno mi alleno nella velocità quindi faccio degli sprint e quindi non so il lunedì faccio un lavoro molto intenso di velocità di accelerazioni come posso utilizzare questa alternanza di sistemi energetici il giorno successivo? Allora Andrea il discorso è questo il discorso è molto complesso se noi guardiamo gli sistemi energetici e se guardiamo tutto l'aspetto tutto quello che vuol dire fatica però la prima cosa che devi fare è stare attento a una cosa se un atleta fa dieci volte in mille si accorge che è stanco e si sente molto stanco se fa invece otto volte in sessanta quell'atleta non avrà fatto fatica ma sarà molto stanco perché il giorno dopo non sarà capace a correre quei 60 metri o quei 30 metri o quei 20 metri a quell'intensità che tu gli chiedi quindi se tu avrai fatto un lavoro di velocità il giorno dopo la cosa migliore è magari fare un lavoro più prolungato dove farà più fatica magari ma meno fatica su quel sistema energetico e mi sono capito la fatica non è sempre correlata alla sensazione di stanchezza ma molto spesso ci sono delle fatiche che sono come quelle del sistema nervoso o quelle magari di un sistema come quello adattacido che portano meno fatica residua ma che in realtà poi portano comunque un affaticamento generale di cui bisogna tenere conto nell'allenamento esattamente quello è proprio il punto se tu fai una ripetizione al tuo massimale di squat sarai molto meno stanco rispetto aver corso la mezza maratona o aver fatto un 3x10 di squat un 3x10 di squat ma la realtà che tu dopo aver fatto il tuo massimale di squat hai bisogno di riposarlo perché non sei più in grado di farlo esatto ciao 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 ciao